Non lo facciamo con gioia, però lo facciamo con certezza, cioè il punto più basso della televisione italiana, non soltanto di questo anno ma forse degli ultimi decenni, è stato raggiunto con il caso di Pamela Prati, non stiamo qui a soffermarci, credo che tutti sappiate che cosa è successo e soprattutto sappiate le ore che Barbara D'Urso ha dedicato a questo caso, all'inesistente Marc Caltagirone e a tutto quanto, alla miseria da cui nasce questo caso, cioè Pamela Prati è ludopatica, un'agenzia ha sfruttato questa sua debolezza consigliandole queste partecipazioni televisive da cui si potevano ricavare qualche soldo, questa è la sostanza. Ma a noi interessa da un altro punto di vista il caso, perché il caso è una miscela esplosiva di due momenti molto importanti, uno che riguarda il web, internet e cioè la creazione di false identità, di false verità anche, quindi questo Marc Caltagirone è il classico personaggio inesistente creato dal internet e dall'altra parte la trash tv, ecco mettete assieme queste due cose, mettete assieme che la conduttrice non ha nessuna remora nel degrado di questo racconto e avrete il momento più basso della televisione italiana.